...di Vinasco che ci ha permesso di organizzare questa serata la protezione civile che come sempre ci supporta, ovviamente un grazie anche a Gruppo Civali che insomma è il fattore di tutta questa realtà che ci ospita. Non voglio dilungarmi oltre, passo subito la parola alla dobbresa nel modo da entrare il progresso possibile nelle domande. Grazie. Buonasera, cercherò di parlare qualche po' anche se non sono tanto di quanto fa.